Tommaso Rinaldi al termine della prima week di WNL, due vittorie su quattro con Cuba e Germania, due vittorie buone per l'Italia. Insomma, le tue buone prove, tracciamo un bilancio di questa prima settimana canadese? Beh, innanzitutto questo è stato un mio obiettivo da tanti anni, iniziare a giocare titolare con questa maglia, con la maglia da Signores e ho raggiunto questo mio primo obiettivo, giocare così con questa squadra, è stato molto bello, all'inizio certo ci siamo dovuti adattare, abbiamo preso le misure un po' sul campo, su noi insieme, giocare, ricezione e così, e appena prese abbiamo espresso il nostro gioco, siamo riusciti a vincere due partite contro due buone squadre e quindi è un voto molto positivo questa settimana. De Giorgio ha detto ad inizio stagione che servirà in questa lunga stagione l'aiuto di tutti, ti ritieni soddisfatto dopo questa tua prima settimana personalmente? Sì, sì, assolutamente, sono soddisfatto di me, parlo personalmente ma anche di gruppo perché siamo veramente dei ragazzi che stanno bene insieme e che veramente sono pronti ad entrare anche per un punto, per metà set, per un set e questo per una squadra fa tanto. Se dovessi pensare ad una cosa da prendere di buono di questa settimana? Beh, sicuramente la sicurezza che ho acquisito durante la settimana nel giocare con questa maglia, con questa squadra. Ora si ritorna in Italia, la stagione prosegue, non si sa come però prosegue. Sì, sì, assolutamente, è solo l'inizio, è stato l'inizio e l'abbiamo concluso nel migliore dei modi e pronti per la seconda tappa di WML e per poi continuare.